Integra è una cooperativa sociale nata nel 2010 che dà lavoro a 12 donne italiane e straniere che si trovano in situazioni di difficoltà sia economica che sociale Inoltre Integra è ecosostenibile, ecologica riconosciuta dalla regione nel 2012 per questo perché utilizziamo tessuti di scarto delle aziende e ci produciamo dei manufatti per l'arredamento, casa, accessori personali e quant'altro In questi 4 anni abbiamo fatto tantissimo ma non ci vogliamo fermare qui abbiamo intenzione di ampliare il nostro campionario e per farlo abbiamo bisogno anche di voi Ci siamo rivolti ad Eppela perché vorremmo finalmente acquistare macchine nuove e professionali Quelle che stiamo utilizzando fino ad oggi sono donate da cittadini, da aziende e sono molto vecchie Con Eppela potremo finalmente migliorare la nostra capacità produttiva e anche la qualità Aiutaci a coltivare il nostro progetto Per ringraziarti abbiamo preparato dei prodotti più significativi e rappresentativi di Integra in edizione limitata Eppela Anche un piccolo contributo è importante per noi e ci aiuterà a crederci sempre di più Grazie Scegli il tuo premio dalla vara laterale della campagna e sostienici come meglio credi Grazie Ciao Ciao Grazie Grazie Ciao Devo ridere meno Grazie a tutti 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 Grazie a tutti